Cento anni fa, nel 1920, dopo che la Grande Guerra aveva messo in ginocchio l'intero apparato industriale bellunese, l'imprenditore calaltino Lucio Lozza gettò le basi della moderna industria dell'occhiale cadorino. Sulle rovine della piccola officina del padre Giovanni, distrutta dagli austriaci, iniziò a realizzare montature in celluloide, un articolo redditizio e ricercato che già negli Stati Uniti d'America si stava rapidamente diffondendo, pubblicizzato dagli attori di Hollywood, tra i quali Harold Lloyd, celebre per i suoi grandi occhiali rotondi. A Lucio si associò il fratello Giuseppe, valente meccanico, quindi Calisto Fedon, come caporeparto, e così nasceva ufficialmente la ditta Fratelli Lozza. All'inizio, nell'angusto locale presso San Francesco d'Orsina, lavoravano sette operai, ma poi negli anni successivi si realizzò un nuovo stabilimento, con il ragguardevole numero di 500 maestranze, di quella che diventerà nel secolo appena trascorso la più importante fabbrica del mondo per le montature di occhiali in materie plastiche, celluloide e derivati. Nel 1941 Lucio Lozza fu nominato cavaliere al merito del lavoro e presidente della magnifica comunità di Cadore, arrivando nel 1944 a finanziare perfino la resistenza cadorina. Fu uomo di cultura e per molti anni presidente dell'Associazione Industriali della provincia di Belluno e dell'Associazione Italiana degli Ottici. Si spense il 24 giugno anno 1954, lasciando la direzione a Mario ed Agostino Lozza, la sirena che annunziava tutto il cadore, l'inizio dell'orario lavorativo, da tempo in muta. E in questi giorni le ruspe che stanno demolendo il grande stabilimento, con il loro incedere gettano un'ombra di malinconia su tutta la valle, per un sogno di prosperità e sicurezza svanito nel giro di pochi anni.